Saluto gli amici di Crozzo Pizza, io ho la sfortuna di conoscere chi è Crozzo e chi è Pizza. Vi garantisco che sono due pirla uno più dell'altro. Comunque voi rimanete agganciati a questo canale perché vi divertirete. E ve lo dice uno che in fatto di divertimento ne sa qualcosa, anche perché ha come spalla uno che si chiama Crudeli, quindi immaginate un po'. Forza Inter! Salute a tutti ragazzi, a presto!